Ben ritrovati a tutti! Oggi abbiamo un po' di matoncini, potete usare anche dei cuscini o degli altri ostacoli. Facciamo un piccolo percorsino a ostacoli, che ci serve per fare allenamento sia cardio che per l'articolazione dell'arca. Innanzitutto li scavalchiamo sollevando bene la ginocchia. E poi di lato, scavalco e scavalco. O e o. Ora prova a camminare di lato e a fare una piccola circonduzione dell'arca. Come a scavalcare un tumuletto. Va qua, scavalco il tumuletto e vai avanti. E poi cambia l'arca con l'arca. e respira, rilassa. E di nuovo il percorso da capo, andata e ritorno. Se te la senti scavalca anche all'indietro, cercando di non farli cadere. Ops! E vai! E ancora una volta! Avanti! E su bene! Le ginocchia! E ora di lato! Hop! E hop! E su! E su! Già un po' si dovrebbero sentire i muscoli delle cosce e anche i glutei. Forza! Andata! E ritorno! Rimani di là e fai un po' di squat. Adesso scavalca. Squat! di nuovo scavalca. Tre! Squat! E l'ultimo! E ora respira! E adesso ancora squat con le gambe. E cambia un po' di malità. Uno! Due! Tre! E di là! Uno! Due! Tre! E di nuovo! Uno! Due! Tre! E il dinamico! Da qua piega. su piega e stai opp la opp e stop adesso i mattoncini li possiamo usare come supporto per le braccia per fare la panca da qua solleva una gamba e l'acqua se fatichi appoggia le ginocchia e farlo con le ginocchia piegate se ce la fai stando su e stop appoggia piega e stendi le braccia anche di poco e di nuovo su glutei 1 2 3 4 stai appoggiando il ginocchio a terra 6 7 8 vai braccia 7 e 8 e ritorna su lentamente avvicina i piedi animali e rilassa respira respira srotola su e giù scuoti se vuoi ripeti altre due volte lo stesso video e continua a seguire gli altri video e tutti i consigli che ti scrivo in descrizione grazie di aver seguito fino a qua la vostra la vostra è una prosecuzione a stai appoggiando il ginocchio a terra gli altri e a l'incompenio a terra 6 seguiti Grazie a tutti.